Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Stone. Via Piano Dardine 15 a Tripanda. Luci spente in segno di protesta contro l'ordinanza anti-smog del comune di Avellino. La maggior parte dei negozianti del capoluogo Irpino hanno spento per dieci minuti le insegne e le luci interne alle proprie attività. Quasi un segno di lutto perché evidentemente è questo lo stato d'animo dei negozianti che ritengono quest'ultimo provvedimento adottato dall'amministrazione comunale una mannaia, la mazzata finale per le proprie attività a poco più di un mese dal Natale e dallo shopping caratteristico di questo periodo dell'anno. Una protesta che mai prima d'ora era stata messa in atto dai commercianti avellinesi a dimostrazione che quanto si sta verificando è un pericolo, un'autentica minaccia per l'economia cittadina. Ormai a collasso e che rischia di avere la spallata finale a causa di quest'ordinanza anti-smog. Ricordiamo che il blocco prevede lo stop della circolazione dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20 per gli autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e benzina Euro 0, 1, 2 e 3. Tutto ciò fino alla fine dell'anno. I commercianti inoltre domani mattina si ritroveranno dalle 9.30 in Piazza Libertà per incontrare la stampa e far sentire ancora una volta il loro grido disperato nella speranza che questa amministrazione che in campagna elettorale ha criticato i propri predecessori condannandoli su tutto, comprese le iniziative del blocco del traffico, possa individuare misure utili a salvare il commercio cittadino.